E se volessi salvare tutto dentro una chiavetta USB? Ok, allora che cosa devo fare? Entro dentro la chiavetta, CTRL L mi vado a scopiazzare la mia repository, qui magari posso tenermi anche la cartella versioni, che adesso vado a creare, ok, salva questa nuova versione del file, mi crea una cartella versioni. Ok, quindi questo è il mio nuovo file, per il resto non cambia nulla. L'unica cosa è, devo quindi renderlo eseguibile, CHMODE più X versioning 4, ok, a questo punto versioning 4. Ok, andiamo a vedere, ecco, come vedete, lui comincia a salvarmi direttamente dentro la chiavetta e questo è molto interessante. Adesso io vado a fare un tot di versioni. Quindi come vedete sta anche cancellando qui dentro Media Data Travel, quindi sta cancellando anche tutte le versioni precedenti, lo vediamo in diretta adesso. Opla, quindi funziona tranquillamente anche su, adesso io ho provato su una chiavetta esterna, ok, voi potete farlo anche su un hard disk esterno, dove volete, insomma, io mi trovo bene con le chiavette, perché il codice sostanzialmente sono cose molto brevi e se esplode il computer la chiavetta non dovrebbe essere, insomma, un po' più sicura, io poi alla sera diciamo la tiro via, eccetera, eccetera. Quindi, ecco, piccolissimo esempio di come salvare le cose anche in altri hard disk esterni che avete quello che volete. Grazie.